In questo episodio Ehm, ti prego non morire? Ti prego... Nooo! Oh 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 Riuscite! Ehm, ma se inizia a giocare nel Nether con solo il piccone Ti divertirai, vedrai! Signori, come vi avrò detto e specificato nella intro Siamo qui appunto nel Nether Sono entrato ovviamente in creativa E il nostro obiettivo sarà quello di fare del cibo Sopravvivere, prendere questi cosi che non ho idea di cosa sia Il basalto o... Tra l'altro, nel commento che vi avrò messo a schermo C'era scritto di non morire subito Ovvio, Dio, voi! Levatevi! Dicevo, nel commento che mi avete scritto C'era appunto scritto solo il piccone Ma io ho pensato, dato che sono un nabbettino Voglio farmi anche lo spadino Ho fatto pure la rima L'avete creato il nabbettino? Vabbè, lasciamo perdere Comunque, il nostro obiettivo è quello di trovare dei materiali Per andare a prendere sia del cibo Che per ora non trovo i tipi dove prendere il cibo Il quarto non ci interessa Sia... Tutte le robe varie Per appunto riuscire a uscire dal Nether Ma, oh mio Dio, mi state dando un fastidio Siete più fastidiosi di questa lava che mi sta uccidendo Signori, allora, allora, allora Allora, ok, me ne vado Basta, me ne vado Ok, ho capito Sono, non sono desiderato Questi cosi sono più fastidiosi di un creep Niente, stiamo già morendo Io non voglio già morire Che cacchio Vabbè, dicevo Andiamo in giro a procacciarci la roba Ma, tipo, questo materiale Se lo prendo Cosa mi dà? Cioè, cosa... Perché non mi ricordo So che c'è del legno qua nel Nether Allora, con la pietra nera e col basalto Non ci posso fare molto So che ci sono, appunto, tramite i nuovi biomi Che hanno aggiunto E voi conoscete meglio di me Si può prendere Ti prego non morire Ti prego... Madò, finirà malissimo Finirà malissimo Oddio No, no No, eh Eh, vabbè, niente Però vedo la mia roba Però dai Ma perché io devo fare queste... Cioè, perché io ho accettato Di fare una challenge del genere Dato che so che non sono in grado di fare... Cioè, proprio io non sono in grado Basta bruciare! Oh mio Dio, basta! No! Basta, vado in creativa E mi ridò il piccone Ma perché non gioco a Barbie? Gioco a Minecraft Barbie devo giocare Io devo giocare a Barbie Tentativo numero 2 E ci sono già degli scale... No, vi prego, morite Allora, vi prego Avevo trovato un bastione O come si chiama? Cioè, una fortezza Con una cesta Incredibile E dello schifo totale Che, vabbè, però Prendiamo Perché siamo poveri Mi prendo anche la cesta Va là Devo trovare Soprattutto Specialmente Delenio Perché sto parlando così Dicevo, devo trovare Salve del legno Qua c'è del... Non ci interessa Blah, 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 blah Oddio, quanto Traballante questo ponte Quanta paura di andare lì Ma, secondo voi Questo qui è del legno? Non è del legno? Non lo so Lo scopriremo solo rompendo Eh... Postati un attimo Dammi qua Grembo Cremisi Hmm... Sembrerebbe del legno Sì! È del legno! Posso farmi la crafting table? Dammelo tutto! Sì! Sì! Legno Cremisi Sì! Ok, quindi abbiamo trovato Del legno Totalmente a caso Ora, in teoria Come mi hanno suggerito Appunto nel commento Per prendere il cibo Bisogna uccidere i piglin O come si chiamano Comunque i porcelli Quelli nuovi Che non troveremo O almeno finora Non abbiamo ancora trovato Perciò Una volta preso Vabbè, quello non ci voglia di prenderlo Una volta preso questo legno Almeno sappiamo che Oh, salve! Salve, signor maialino! No, no Venga un attimo Che le devo far vedere una... Eh, calma però Devi stare però calmo Sì, ok Va bene Siamo contenti Tutti quanti Sì Allora, basta sporcellare E datemi le cose, ok? Anche tu piccolo maialino Non ho paura di ucciderti Oh, quante porcellane abbiamo? Sì, le chiameremo porcellane Bene Sei costoletta di cibo Bene Stiamo andando Bene Più o meno Oh, ho detto Non troverò i maiali Cosa ho trovato? I maiali! Sapete cosa? Dovrei farmi Un'ascia Decisamente Quindi Fatemi fare un tavolo da lavoro Tec lo posizioniamo Dei bastoncelli E una bella Asciozza di legnozzo Così almeno vedete Che tec Riusciamo a spaccare tutto In modo Molto Molto Lento Però almeno Più efficace Allora, signor Gast Veda di non darmi fastidio Eh, l'ho appena detto Mamba, porca Io ti vengo Ti vengo a picchiare sotto No, no Non l'ho preso mai nella vita Eh, dai Tiramela Dai, tiramela No, no Ok, ok Ho paura Va bene, va bene Me ne vado Ok, hai vinto tu Per questa volta Hai vinto tu Non voglio dare fastidi Sono solo di passaggio Salve E arrivederci Oh, c'è il mega fight Dei porcelli Ok, stanno facendo Le mega invas... Vai, vai Uccidete, uccidete Cioè, no me Uccidete Vai, attacca, attacca, attacca Cioè, è un me... No, non guardarmi Ok, mi hai attaccato Io ti uccido Anzi, io scappo Ti uccido Scappo, uccido Scappiamo, va Non vorrei che qualcuno No, no Mi sta puntando con le frecce Mi sta puntando... Cioè, noi dovremmo Riuscire Perché, mondo? Perché? Mi voglio suicidare Mi voglio suicidare Allora, sono tornato alla fortezza Perché mi andava E, dato che le mie cose non le trovo più E voglio sconfiggere questi tizi Così, almeno, voglio riuscire a trovare qualcosa Signor Blaze, si allontani Signor... È volo No, no Ok, non vedo niente Cioè, quanto sono durato 10 secondi? Cioè, oddio Quanto... Ora mi dite Anzi, lo controllo anch'io Quanto tempo è passato Dall'ultimo taglio che vi ho fatto O comunque, in generale, dall'ultima morte Tipo 10 secondi Ora Ovviamente, le robe me le sono riprese in creativa Perché, altrimenti, la challenge Non ha senso Perché non si può sopravvivere nel... Vabbè Niente E allora moriamo Dito Bravi Bravi Sì, ok Va bene Facciamo la challenge De sopravvivere nel nether Dicevano Ce la farai, master Dicevano Ma non c'è nessun problema Master dicevano E Cazzo No, guardate come spawno Spawno cadendo Cioè, allora ditelo Mi volete male No, ma ora ci penso io Ora ci penso io E ci torniamo da quegli scaletti del winner Sì, sì Aspettate Solo 3 secondi Giusto un taglio 3 secondi Contate 1, 2 e 3 Oh Ah Chi è chi si è dato l'armatura di netherite qui? Master Sì Esattamente io Perché fare la challenge normale Per me Dato che sono un mezzo scarsone Oh mio dio quanti siete Però ho stato un attimino calmi È difficilissimo Già trovare la netherite E che cacchio In più È impossibile Quindi io mi faccio le imbrogliate tattiche Mi prendo tutta la roba tattica E picchio talmente tanto questi blades Da far schifo Oh Ce ne sono altri vivi Oh Però Oh mio dio Abbiamo due cori No, no State calmi Oh Piano, piano E che cacchio Oh Vedete come abbiamo ammazzato facilmente? Oh E ora Non è finita Perché dite Eh ma è finita Perché no Non è finita Perché in realtà Mi sarei voluto dare anche le torce Non ci vedo niente Se vedo solo questo scheletro qui Che vorrà morire Vero scheletro che vuoi morire? Oh sì Guarda come scape Oh Oh Scemo 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 Oh E ora col potere dell'imbroglio E un panino che stava colpendo Volevo scavare con il panino Sì ok Volevo scavare con il panino Uh ma c'è uno spawner di blades Oh Che carino Potrebbe servire No No Non serve a niente Non serve totalmente a niente Perciò lo disintegriamo Potrei buttarmi qua Ma invece mi butto qua Perché sono un bimbo ribelle Eh ma ma se inizia a giocare nel nether Con solo il piccone Ti divertirai Vedrai È divertente Col cacchio Col cacchio Non c'è niente di divertente Iniziare solo col piccone Ok È una Cioè mi viene l'ansia Mi viene l'ansia Quindi questa challenge Si chiamerà la challenge dell'imbroglio Sapete cosa non bisogna fare nel nether? Picchiare loro Esattamente Ma io li picchio Io li picchio E picchio anche loro Oh Mi hanno guiderato Non mi interessa Perché tanto sono immortale C'ho la mia armatura di netherite Cosa mai potrebbe succedermi? Oh Oh Volete bruciarmi eh? Oh Sì sì Bruciami Sì certo Sono guiderato anche Oh mio Dio sono morto Basta Me ne vado Addio Cioè io ci ho anche provato A fare questa challenge Ci ho provato Ci ho carenuto in me stesso Mass Oh che culo del ferro Mass Credi te stesso Per fare questa challenge? Sì certo Non riuscivo a prendere quel pezzo di ferro Ok L'abbiamo notato tutti Però Per me No 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 Ok Guarda come guarda l'orizzonte Questo cavaliere Questo wider E mi ha widerato E mi hai Cosa mi wideri? Che vai nella lab Cosa mi wideri? Cretino Dicevo Ci ho provato Però al momento Non ci sono riuscite Quindi è spociata nel disagio Ora La prossima volta che cado E muoio Quinto per sempre Quindi Andiamo Torniamoci Un attimo Nella cosa La challenge Diceva di prendere Del legno Farci tutte le cose varie Poi provare a farci tutte le cose E sopravvivere Nel nether Ma per me È stato impossibile Ok E non è morto E non è morto E allora io picchio te Picchio te per uno ribelle E picchio pure te Picchio tutti Ok Ok Partita la master picchiomania Quindi magari Quel tipo di video Dato che oggi è finito Il sfacelo E non sono mentalmente stabile Per provare a rifarlo E finiamo per ammazzare tutti Finire in tragedia? Sì Vi chiedo di consigliarmi Altri challenge Che potrei provare a fare Ma potrebbero finire male? Sì Poi sta Vuoi decidere Se scrivermelo o no Quindi dato che di qua Ci sono passato 200 volte Voglio andare a concludere In tragedia Ma basta fare sto salto È già la seconda volta Che rischio di morirci Ed è già la seconda volta Che c'è sto wither Muori Ok Ho fatto una Come ha fatto a witherarmi Va bene Voglio Uno Uccidere questo coso Ciccione Due Provare a non morire Nel frattempo Ucciderlo Cosa ho sbagliato a parlare Ma avete capito? Bene è morto E con due cuori di vita Io direi di andarla Conclude Oh guardate lì che si picchiano Vai vai fammi fare la scala Fammi la scala Fammi la scala Sposta 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 Voglio partecipare anch'io No 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 vi prego Sono bloccato A Mayday Mayday Sono andato abbattuto Al volo Quindi signori Spero che questo video Vi sia È finito in tragedia Sì mi sa che rifarò tanto la intro E farò qualcosa di diverso Perché è finito malissimo Io me ne torno al menu Basta Minecraft Non voglio più vederti mai più per oggi Non è vero devo registrare un altro video Spero che questo video Vi sia piaciuto Ha finito malissimo La challenge non è stata completata Mai nella vita E non la completerò mai Almeno per oggi Magari in più avanti La rifarò Vi ringrazio per la visione Vi do appunto E ormai Al solito Ero per l'1.45 Perché sì Ho cambiato radio Con un nuovo video Ciao Basta Vado a giocare a My Little Pony Ero per l'1.45